Ben trovati al TG Sordi di Lecce 7. Continua a crescere il numero di contagiati da Covid-19 in provincia di Lecce e in Puglia. Attualmente i casi positivi sono in tutto 548, di cui più di 100 nel Salento. Si tratta di focolai innescati da persone di ritorno dall'estero. Massima allerta delle ASL per mantenere l'isolamento dei positivi. Tragico incidente sulla Statale 16 all'altezza di Galatone. Un 25enne di Taurisano, ma residente in Svizzera, ha perso la vita dopo un violento schianto a bordo della sua potente moto Kawasaki. La moto ha impattato con un'auto, finendo per sbattere contro il guardrail. Centravano le auto con dei sassi dal cavalcavia. Sono finiti nei guai nove minori, ritenuti responsabili di aver colpito un camion di passaggio dalla Statale 16. I ragazzi si erano appostati sul cavalcavia di Corigliano d'Otranto e sono stati individuati dai carabinieri. Bravate e vandalismo per racimolare qualche like su Instagram. Sono finiti nei guai tre giovani musicisti milanesi. I tre, in vacanza ad Otranto, sono stati riconosciuti dalla polizia in alcuni video pubblicati sul web in cui deturpavano monumenti e disturbavano la quiete notturna. Un'impressionante tromba d'aria si è abbattuta sul litorale di Pescoluse, creando il panico tra i bagnanti. La tromba d'aria ha sollevato ombrelloni e materassini, ma per fortuna nessuno dei presenti è rimasto ferito. Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Lecce. È lui la scelta del DS Pantaleo Corvino dopo l'inaspettato addio di Fabio Liverani. Corini ha stipulato un contratto di tre anni. Sono orgoglioso di rappresentare una terra che è molto identitaria e legata ai colori della sua squadra, ha dichiarato. Grazie. 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 Grazie.